Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, Presidente d'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. 800-640-771 per le vostre domande in diretto oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Dottor Ferrando, partiamo però dalle broncopolmoniti perché ci sono diversi casi in aumento in tutta la nostra regione, è vero? Qual è la fotografia che ci può aiutare a scattare? Ne parlavamo giusto tra pediatri qualche giorno fa dell'impressionante numero di infezioni delle basse vie respiratorie, quindi broncopolmoniti e polmoniti in questa stagione, che è un fatto non solo locale perché ci confrontiamo con pediatri di tutta Italia e giusto ieri sera una collega dell'Emilia Romagna ha detto che giusto in un giorno ha avuto tre bambini che ha dovuto ricoverare per broncopolmonite, quindi non allarme ma un po' di attenzione e se vostro figlio presenta una tosse un po' diversa perché la broncopolmonite il bambino non sta tanto bene in genere, invece di fare il fai da te contattate il pediatra perché abbiamo queste sorprese. Un fatto abbastanza inspiegabile perché uno dice come mai in questo periodo? Appelliamoci al tempo, pensiamo a tutti gli effetti del post covid, dell'indebolimento che questo virus ha creato nell'organismo, cose che stiamo ancora studiando. Invochiamo la possibilità dell'inquinamento, comunque prendiamo atto che in questo periodo c'è un numero di broncopolmoniti proprio in eccesso rispetto alla stagione, rispetto agli anni precedenti, rispetto in assoluto. Teniamo conto di una cosa che quando si parla di broncopolmonite, si parla degli accessi ospedalieri, ma per una polmonite che va in ospedale, ce ne sono almeno dieci o più che vengono curate sul territorio. Qui punta anche la necessità di investire in ricerca sul territorio perché non possiamo avere solo i dati degli ospedali dove ci finiscono i casi, la cima dell'icefari, i casi più conclamati, i casi più impegnativi, i casi più brutti che non hanno avuto successo di una terapia a casa oppure che si sono presentati subito in modo importante, grave, tale da richiedere il ricovero. Senta dottor Ferrando, come si riconosce? Quali sono quindi questi sintomi? Lei diceva il bambino non sta bene per niente, ma basta una tosse persistente, non credo? No, ma diciamo che ogni malattia ha una gradualità, pensiamo a una scala di grigi, perché uno pensa bianco sto bene, nero sto male, c'è la polmonite. In genere, parlo in genere, nella broncopolmonite, polmonite, la frase che viene detta più spesso dai genitori è molto giù, non l'ho visto così giù. Quindi non basatevi tanto sul tipo di tosse, ma su come sta vostro figlio o vostra figlia. Nei bambini piccoli abbiamo altri segni, oltre a essere bambino diverso, quindi molto più moggio oppure alternare periodi di agitazione a periodi di scarsa responsività, risponde poco, non è il solito bambino, ha meno voglia di giocare. L'altra cosa che si manifesta nel bambino piccolo è il calo dell'appetito, nel bambino più grandicello, la riduzione dell'attività fisica. Al di là di queste cose che sono soggettive, però ricordo che chi conosce di più i vostri figli, siete voi genitori, siete voi nonni che li vedete tutto il giorno, quindi fidatevi di questo, non tanto della febbre, perché la polmonite, la broncopolmonite può venire anche senza febbre, quindi togliamoci questa cosa del passato, che se la febbre sta male, se non la febbre non sta tanto male. Anzi, a volte la mancanza della febbre può essere un segnale più preoccupante, perché vuol dire che l'organismo non reagisce. Quindi fidatevi di come vedete il vostro bambino, l'altro sintomo che si può vedere è la cosiddetta tachipnea o dispnea. Questi paroloni per dire che il bambino respira tachi molto frequentemente o dispnea o dispnea o respira con difficoltà. Se il bambino respira come un cagnolino d'estate, con una frequenza a seconda dell'età, sotto l'età di un anno, sopra i 50 atti respiratori al minuto, da 1, 2, 3 anni, sopra i 40 atti respiratori al minuto. Si presenta una difficoltà della respirazione, nel senso che, come si vede da quella foto di un grande, il respiro è appoggiato, muove tanto la pancina, si vede qui dal giugolo un rientramento quando respira. Ecco, questi sono segni che mette in funzione i muscoli ausiliari della respirazione per cercare di far entrare più aria possibile. Quindi la presenza di una difficoltà respiratoria, sia come aumento della frequenza, sia come difficoltà a un respiro appoggiato, l'addome nel bambino piccolo che protrude, associata al bambino che è diverso dal solito, deve farvi chiamare il pediatra che valuterà il farsi, terapia a casa, oppure il ricovero. Se avete a casa il saturimetro, perché dopo la Covid ormai tutti hanno questo aggeggino, è un dato in più. Ecco, se la saturazione di ossigeno scende sotto il 97%, vuol dire che c'è qualcosina. Se è sotto il 92, 93, chiamate, ma anche il 94, 95, prenotate una visita o almeno sentite al telefono il vostro pediatra. Siamo partiti dalla broncopolmonite, da casi in aumento anche nella nostra regione. E allora la domanda, anche se ne abbiamo già parlato prima, che arriva da Silvia è questa. Ma quando si deve chiamare il pediatra? Grazie. Direi nel dubbio sempre. Soprattutto però sono presenti dei segnali, come ho detto prima, quindi non solo la tosse, ma se vedete vostro figlio diverso dal solito, come umore, come comportamento, come attività. Ecco, questo è un piccolo segnale di allarme e non preoccuparsi solo, dico solo se c'è la febbre, perché di infezioni virali in giro ce ne sono tante e alcuni di questi broncopolmoniti sono di origine virale. Molti sono causati da un germe particolare che si chiama micoplasma pneumonie, però per essere certi di queste cose avremo i risultati probabilmente un po' in là. Ma nel frattempo tenete conto che se il bambino presenta questi disturbi va visto dal pediatra che dopo visita, dopo valutazione della saturazione, che potete valutare anche a casa indicativamente, perché se è normale questo autorizza essere più tranquilli, mentre se è 92-93 bisogna correre a chiamare e il pediatra valuterà che cosa fare, cioè chi fa già l'ecografia ai polmoni, ecco non correte a fare i raggi perché una volta bisognava fare i raggi. Per la diagnosi e la terapia di una bronchite, di una broncopolmonite non è necessario ricorrere subito ai raggi a tutti quanti, lo decidere al medico in base ai casi particolari e se ci sono dei dubbi per decidere quale terapia o se cambiare la terapia. Questo perché si è visto che le radiazioni bene non fanno, e meno se ne danno, e meno il bambino ne riceve, meglio è. Quindi non richiedete i raggi e non prendete in autonomia la decisione di fare i raggi, anche perché in genere attualmente non viene più fatta da nessun istituto se non c'è una richiesta, una ricetta del pediatra. Buongiorno, sono Valentina, la tosse di mio figlio, 15 mesi, peggiora di notte. Cosa posso fare per migliorare il sonno e riuscire quindi a far dormire tutti? Grazie. Ma il consiglio è quello di sentire il pediatra perché la tosse può essere un'infezione delle alte vie respiratorie e a questo punto qui si può valutare se fare una terapia antinfiammatoria o aerosolica o puffo oppure sedare qualche sciroppo. Ecco, sui sciroppi apriamo un discorso. I mucolitici, i vari sciroppi per la tosse non vanno mai utilizzati nei bambini sotto i 2-3 anni. Vanno di moda alcuni sciroppi cosiddetti naturali e tra le terapie che più consiglio io nel bambino di età superiore a un anno, c'è la terapia chiamata, che chiamo Milk and Honey, che è il vecchio latte miele. Ma detto in italiano fa poca scena, mentre detto in inglese fa più smart, come si dice per qui. Honey Milk! Milk and Honey! Ci sono vari sciroppi in farmacia con il miele che ho fatto il conto che quel miele verrebbe a costare quasi 1000 euro al chilo. Comunque, chiedete al pediatra prima di dare vari sciroppi. E sciroppi e vari prodotti che decenni fa noi pediatri davamo ai bambini, che i nonni si ricorderanno, varie supposte per la tosse, che marchi in genio la supposta per l'assorbire per via rettale, per arrivare a livello dei bronchi. Comunque, c'erano supposte per tutto, non vanno date. Anzi, nel bambino di pochi anni hanno i mucolitici, i fluidificanti e delle controindicazioni. Così anche i sedativi della tosse. Quindi a questa mamma cosa dire? Se tossisce di notte, rimedi fisici, umidificazione dell'ambiente, se la umidità in casa è sotto il 50-60%, eventualmente se ha più di un anno un pochino di latte e miele non fa, però se continua a tossire così di notte, bisogna capire perché. E prima di dare un sedativo della tosse nei bambini piccoli, bisogna stare molto attenti a dare questi farmaci, però bisogna sentire il pediatra, che deciderà di vederlo, di visitarlo o di dare una cura, perché il pediatra conosce il vostro figlio. Le leggo l'ultima domanda di oggi. Il mio bambino di tre mesi, dalla tosse secca, gli è diventata grassa. Su postina di Gran Plus, lavaggetti nasali, aerosol senza fisiologica. Posso fare altro? Grazie. Sì, evitare il Gran Plus forse, che è una specie di antibiotico dato per via rettale. Quindi, ecco, una cura che io consiglio tanto, oltre al milk and honey, è la aria terapia. Ecco, fate uscire i bambini, fa molto meglio stare all'aria aperta che non stare chiusi in casa. Aiuta anche a sciogliere il catarro, come aiuta a sciogliere il catarro anche bere tanto, ammesso che il bambino beva. Un po' di aerosol con la fisiologica, male, non fa, comunque mi limiterei a quello che ho detto. Quindi bere, latte e miele, uscire e è naturale che una tosse inizi come tosse secca, pian pianino maturi. Valuti come sta il bambino, perché se è il solito diavoletto, eccetera, anche se ha un po' di tosse, non è il caso di preoccuparsi. Comunque, nel dubbio, i consigli personalizzati bisogna che vengano dati dal medico che conosce il bambino. L'ultimista, broncopolmoniti o polmoniti virali sono contagiose? Stando a stretto contatto, basta entrare in un luogo in cui è presente il virus tipo negozio, supermercati affollati? Grazie. Diciamo che queste broncopolmoniti sono causate da virus o batteri o germi particolari come il micoplasma e approssitativamente diciamo che se una persona ha uno di questi germi, se incontra 100 persone, alla maggior parte, non causerà niente. Ad alcuni potrà venire solo un raffreddore, ad alcuni una tosse delle altre vie respiratorie, ad alcuni può venire la polmonite. In base al vostro indice di sfortuna, lo chiamo, perché a uno deve venire un semplice raffreddore, a un altro bambino, a un adulto, una broncopolmonite, tenere conto dei fattori di rischio che è l'età, le prime età della vita e più si va avanti il vecchio e il bambino, più si va avanti nell'età, si ha più rischi perché il sistema immunitario è meno efficace. Per tutti vale la raccomandazione di aprire le finestre, far ventilare la casa e l'area di terapia vale anche per gli adulti. Grazie, grazie al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a lei e a tutti quanti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.